Il Sette Rosa torna a Imperia dal 15 al 20 giugno. La squadra azzurra medaglia d'argento alle ultime Olimpiadi soggiornerà infatti nel capoluogo, sede scelta per il ritiro collegiale. Sarà una settimana intensa durante la quale i tifosi potranno festeggiare le celebratissime atlete dell'Italia pananotistica con la possibilità di assistere ai vari allenamenti nella piscina Cascione. Il ritorno del Sette Rosa è frutto del lavoro corale svolto dalla Rarinantes Imperia coordinato dal direttore sportivo Silvio Todiere. Quello di Imperia sarà l'ultimo ritiro collegiale in vista del mondiale di Budapest e il Sette Rosa ha chiesto di potersi allenare tre ore al mattino e due al pomeriggio.